Molto slanciato, come potete ammirare, agguerritissima sicuramente, molto giovane anche la Velvet McIntyre e vedete che si trova perfettamente in simbiosi con la Rani Kai, combattono in maniera molto affiatata la Rani Kai e la Velvet McIntyre c'è stato un touch, un cambio tra la Mimia Ghivara e la Yukari Omori, guardate l'arbitro come prontamente sta ascoltando la Velvet McIntyre infatti la Rani Kai ha temuto che la Velvet McIntyre abbandonasse e quindi ci fosse un knockout tecnico ma nulla di fatto, come avete potuto vedere la McIntyre è stata aiutata dalla Rani Kai tentativo di schienamento, conteggio fino a 2, è intervenuta ancora una volta la Rani Kai a distrarre l'arbitro comunque la Omori ha preferito ancora non schienare definitivamente, infatti si era rialzata oltretutto c'era stato un ponte da parte della McIntyre e ancora continua aiutata dalla Mimia Ghivara la Omori ora abbandona il ring la Omori per ritornare al proprio angolo e la Mimia Ghivara ha preso il posto della Omori e continua a picchiare l'interno coscia con questi calci di pianta all'interno coscia della coscia destra della Velvet McIntyre come potete vedere